Da questi schermi c'è stato un botte e risposta tra Virtus San Giustino e US San Giustino e noi abbiamo chiaramente voluto invitare un esponente della giunta di centro-sinistra perché faccia chiarezza definitiva su quello che è successo. Assessore, a lei la parola, fermo restando che tutte le società e tutte le associazioni sportive da oggi, via da un mese a questa parte, dovranno rifarsi al regolamento sportivo varato dalla giunta. Assessore, a lei la parola. Sì, io intanto ringrazio, ti ringrazio a te Michele, questa emittente che dà lo spazio, anche l'amministrazione su questa vicenda per cercare appunto di avere un ruolo di mediazione, quel ruolo che dal 29 giugno, ovvero da quando il sottoscritto è stato nominato assessore allo sport, oltre che alle politiche sociali alla scuola del comune di San Giustino, ha sempre cercato di esercitare fra le varie società, soprattutto quelle che entrano magari più in contraddizione fra loro sono le società calcistiche. L'ultimo abbiamo visto che ci sono stati purtroppo ancora dei disservizi che l'US San Giustino ha lamentato e abbiamo cercato di intervenire subito anche in questo caso, però io da questi schermi preferirei magari parlare di carattere di questioni più generali perché c'è già un'interrogazione dal gruppo di centro-destra di San Giustino e quindi è bene che prima passi nelle sedi dovute insomma al Consiglio Comunale. Però ecco, ribadesco ancora una volta le due società, il soggetto gestore che è la Virtus San Giustino, all'US San Giustino, per quanto riguarda proprio il capoluogo di San Giustino che ancora una volta di trovare dei termini di mediazione, di collaborazione, perché questo sistema fondato ancora su una convenzione che è in atto fino al 30 giugno, lo voglio dire molto chiaramente, è basato sul buonsenso. Quel regolamento cui accennavi te, che come Consiglio Comunale abbiamo deliberato il 31 gennaio è l'unanimità, quindi c'è l'unanimità di tutte le forze politiche in Consiglio Comunale. C'è stato un lavoro a cui hanno partecipato anche le società, ricordo il presidente Ricci dell'US che ha avuto un contributo in questa costruzione del regolamento, ma anche la Virtus San Giustino, anche il Lama, il GS Lama hanno avuto un ruolo importante nella costruzione di questo regolamento, vuol definire che dalla prossima stagione, quindi dalla prossima stagione parliamo della programmazione della prossima stagione, a giugno di quest'anno, dal 1 luglio, diciamo, dal 1 luglio del 2011 ci saranno delle regole certe per tutti che potranno definire sia gli affidamenti degli impianti sportivi, sia l'utilizzo e a questo punto se ci fossero anche di servizi, possono essere anche di servizi nell'utilizzo dello stadio, possono essere anche, come dire, non più mediati con il buonsenso come adesso, ma anche rilevati e apporre un correttivo. È fondamentale fare questo, è stato fondamentale fare questo perché innanzitutto era nel programma politico del centro sinistra quando ci siamo presentati i nostri concittadini e abbiamo chiesto il voto e quindi era anche obbligatorio farlo da questo punto di vista, ma in più per garantire a tutti i cittadini, non solo alla società, di utilizzare a pieno e di avere il controllo massimo sulla gestione dei loro impianti sportivi perché ricordo, e con questo concludo e ti ringrazio ancora Michele, ricordo che gli impianti sportivi, che essi siano campi da calcio, palestre o palazzetto, sono dei concittadini, in questo momento noi li amministriamo, i gestori fino a giugno che le scadenze sono queste, li gestiscono per conto nostro, quindi è un bene pubblico, è un bene di tutti e ci può essere qualsiasi tipo di discussione. La Giunta, il Sindaco in testa, è sempre stata ad ascoltare le discussioni e a cercare di porre dei correttivi, quindi grazie. Allora, adesso rubiamo ancora un paio di minuti perché cerchiamo di capire un po' quello che è successo, innanzitutto il regolamento cita chiaramente che tutte le società sportive avranno pari dignità e questo diciamo è qualcosa di importante ed è una tutela per tutti. Però, e su questo Assessore le chiediamo un impegno concreto, ci sono due società a San Giustino, due società che avranno i loro tifosi, che avranno chiaramente necessità di sfruttare l'impianto del comunale. Passare attraverso le emittenti televisive, gli organi di stampa non è mai piacevoli, soprattutto per noi che facciamo questo lavoro. Le chiedo, ufficialmente come conduttore di questa trasmissione, di convocare il Presidente Ricci e il Presidente Fabri e cercare di risolvere e di mediare qualcosa che è stato spiacevole un po' per tutti. Questo è un impegno che le chiediamo formalmente, se lei se ne può far carico, anche perché poi alla fine arrivare al 30 giugno è semplice, però ancora ci sono tre mesi. Se magari questi tre mesi passano con delle polemiche, non fa bene al calcio e non fa bene neanche un po' alla stessa giunta. Lo prende questo impegno? Ma io, vedi Michele, mi prendo l'impegno, un impegno che avevo già preso quando c'è stato l'incontro il 15 luglio del 2010 tra le due società alla presenza mia del Sindaco, posso rinnovare questo impegno, però voglio che passi un concetto. Prima attraverso l'atto formale dell'interrogazione fatta dal centro-destra. Senz'altro, quindi prima della fine del mese perché è obbligatorio fare il Consiglio Comunale il 31 marzo. No, dicevo, voglio che passi un concetto per le politiche sportive nel futuro di San Giustino e il Comune di San Giustino che hanno un peso anche mediatico, vediamo da questo punto di vista, più che altri comuni, non solo perché ci sono Serie A1 di pallavolo, Serie A2 di tennistavolo, questo mi preme dirlo. Però voglio che passi un concetto, che è quello che dicevi tu, che le società sportive nella pratica dello sport hanno tutti gli stessi diritti, i medesimi diritti, sia che esse siano di promozione o di seconda categoria, questo ci tengo a dirlo. Per l'amministrazione però c'è una differenza. Chi promuove lo sport attraverso settori giovanili e in un futuro dovremo ragionare su questo, e questo già lo lancio io come tema, qualsiasi tipo di sport, calcio, pallavolo, però avranno le preminenze coloro che avranno i settori giovanili, coloro che hanno la costruzione dei settori giovanili, che fanno pratica sportiva indirizzata verso il rispetto dell'avversario, verso la lotta al doping, verso tutte quelle tematiche che poi si rifanno. la legge regionale che è nata dal 2009, quindi è questo quello che sarà la preminenza. Benvenga chi fa attività sportiva, ci mancherebbe, però avranno preminenza sempre in un futuro, coloro, quelle società che praticheranno sport attraverso i loro settori giovanili. Un futuro prossimo si parla di capire dal primo luglio. Penso proprio di sì.